Saranno stanziati 35 milioni di euro che confluiranno nel Fondo Giovani per la creazione di oratori laici con l'obiettivo di colmare quel vuoto sociale che la pandemia ha creato soprattutto nel rapporto tra i più giovani. Ad annunciarlo dal palcoscenico del Teatro Marrucino di Chieti è stata proprio la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone intervenuta all'evento Educazione, Formazione e Lavoro organizzato dalla Capanna di Betlemme che opera nell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con Informa Giovani, il Comune di Chieti e l'Università d'Annunzio che nell'auditorium del Rettorato ha ospitato la sessione pomeridiana dell'evento. Tra i momenti salienti della mattinata gli interventi dei relatori e gli intermezzi teatrali affidati ai giovani attori dell'Associazione Shakespeare in Sneakers fino al dialogo con la ministra animato dalle domande dei giovani studenti degli istituti superiori di Chieti. Fabiana Dadone, ministra per le politiche giovanili, oggi si è parlato di educazione, formazione e lavoro un trinomio che lei ha detto dovrebbe essere scontato ma così non è. L'Italia tra l'altro è un paese che sconta un alto tasso di inattività di giovani che non lavorano e non studiano come si può invertire questa tendenza? Sicuramente facendo emergere innanzitutto il fenomeno molti ragazzi inattivi neanche sanno di essere in questa condizione quindi è importante riuscire a dare seguito a un piano di emersione su cui stiamo lavorando come ministero per riuscire a andare a individuare sui territori e lì offrire tutte le possibilità che ci sono in termini sia di progettualità europee penso al Corpo Europeo di Solidarietà, l'Erasmus Plus, o anche solo alla nostra nazione penso al servizio civile così come a tutte le opportunità che offre Garanzia Giovani. C'è ancora da lavorare sulla riduzione della distanza tra domanda e offerta e sull'orientamento soprattutto già nell'età scolare, penso in particolare alle scuole medie ma su questo proprio grazie al PNRR si andrà ad intervenire nello specifico insieme alla riforma degli ITS. Manuel Pantalone, Assessore del Comune di Chieti per le politiche giovanili questo importante convegno a cui è partecipato anche la Ministra Fabiana Dadone ha dato vari spunti che però dovranno essere anche concretizzati territorialmente. Come? È stato un importante momento d'incontro e di confronto con i giovani un momento che abbiamo fortemente voluto come amministrazione perché crediamo nel dialogo costante con i giovani e perché sin da quando ci siamo insediati abbiamo avviato tanti progetti volti proprio all'aggregazione giovanile, alla sana aggregazione giovanile ma anche alla formazione. Mi viene da pensare per esempio alla web radio Teatroner, radio istituzionale fatta interamente dai giovani qui abbiamo destinato i fondi provenienti proprio dalle politiche giovanili poi per il tramite della regione, il fondo Abruzzo Giovani ma anche mi vengono in mente tutte quelle iniziative, tutti quei bandi ai quali stiamo rispondendo proprio per dare ai giovani luoghi di aggregazione ma anche per dare ai giovani la fiducia nel futuro. Luca Fortunato del Capanna di Betlemme che opera appunto nell'ambito dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Questo evento e questo titolo è stato creato proprio perché negli ultimi due anni purtroppo abbiamo associato il discorso sociale, problemi sociali alla parola giovani che è una cosa gravissima, prima non esisteva, i problemi sociali erano più legati a fasce d'età più adulta e quindi c'è stata la necessità di andare a riacchiappare questi ragazzi quindi rimotivarli, essere con loro e fa un po' da antidoto, io dico, alla depressione, alla solitudine esistenziale, a tante devianze quindi questo contiene anche la prevenzione oltre che poi essere compagni di sogni di questi ragazzi.